Cosa possiamo fare? Cosa può fare l'agente comune oltre ad aiutare con medicinali, con vende, garze, quello che ci viene chiesto in questo momento? C'è il problema dell'ospitalità? Esatto, purtroppo è un problema che già noi sentiamo come amministrazione comunale, come cittadini da parecchio tempo e adesso si è aggiunta anche quella dei profughi. Proprio ieri mi hanno contattato perché sono arrivate qui nel nostro comune una famiglia composta da sei persone che si è installata al momento presso conoscenti ma vivono in dieci in un appartamento da 40 metri quadri e poco fa mi ha telefonato un'altra ragazza che sta ospitando un signore con tre bambini che necessita anche di cure mediche perché deve fare la dialisi. Quindi l'emergenza che abbiamo potuto vedere solo in televisione adesso ci sta toccando proprio da vicino. L'appello che io vorrei fare è di chiedere ai cittadini di Omenia che si sono sempre dimostrati negli anni molto attenti alle tematiche sociali se hanno la possibilità di avere dei piccoli appartamenti che magari sono temporaneamente sfitti di metterli a disposizione di queste persone con la speranza che quanto prima loro possano ritornare nella loro patria perché possiamo finalmente dire che la guerra speriamo possa finire brevemente. L'aiuto e il sostegno che possono dare le istituzioni in queste situazioni si può pensare anche ad un aiuto economico magari a cui metta a disposizione la propria casa. Si parlava anche di aiutare chi ha dei bed and breakfast in questo momento per esempio? Sì, come comune abbiamo una piccola cifra a disposizione che impegniamo sul tavolo dell'emergenza abitativa che è quella che ha permesso in questi mesi di poter dare una mano per pagare gli affitti e le bollette. Diciamo che possiamo eventualmente riuscire ad incrementare questo piccolo fondo e dare comunque un sostegno economico alle persone che mettono a disposizione delle strutture per l'accoglienza a profughi ucraini.